Socrate non speculo mai sulla schiavitù che esisteva ai suoi tempi. Era la normalità per Lund. Questo è valido per tutti i tipi di filosofi e politici che siano mai esistiti, che questi sia Karl Marx, che sia Platone. Sono tutti rinchiusi in un paradigma stabilito e i loro processi mentali possono arrivare solo fino ai propri limiti. E questo include probabilmente anche me stesso. La gente è rinchiusa in una scatola. Vedono la scatola attorno a loro. Vedono le falle, i buchi e le crepe, vanno verso le crepe e provano a ripararle. Provano a mettere una pezza sui buchi. Ma non si fermano a pensare che forse c'è qualcosa di sbagliato proprio nella scatola stessa. Forse sarà l'integrità della scatola nella quale esistono che è intrinsecamente sbagliata, intrinsecamente vuota. Il sistema economico in cui viviamo è un paradigma parassita che non farà altro che portarci all'autodistruzione. Ma la gente non lo vede. Quindi si attacca il sistema economico per quello che realmente è. Alla gente si accappona la pelle. Tutti dicono, in fondo, questo è il mondo in cui viviamo tutti. Viviamo in un mondo basato sul profitto, sullo scambio lavoro-reddito, sul consumo ciclico. Questo è ciò a cui siamo abituati. È normale avere una divisione in varie classi. Sai, si giustificano con la natura umana. Buttano dentro qualunque cosa per fare credere che questo abbia origine dall'ordine naturale delle cose. Quando in effetti non è così, ovviamente non andrò da un dottore, se posso, che non ha titoli di studio in chirurgia, di cui potrei aver bisogno. Sono necessari istruzioni ed esperienze per farlo. Ma quando si analizzano le cose in astratto, quando si arriva alla semplice analisi delle informazioni, quando si arriva all'analisi della storia, quando si arriva all'economia, si deduce che è un sistema artificioso. E non si basa sul nulla nei funzionamenti generici. Non è basato sulle leggi della fisica. Non è basato sulla legge scientifica che è in relazione al funzionamento planetario. Poi, improvvisamente, diventa molto rilevante speculare su quanto significano queste cose per la società. È una lama a doppio taglio. Quando prendi master, lauree e dottorati, pensa a quello che stai realmente facendo. Stai percorrendo un percorso formativo che è stato completamente prestabilito per te dalle istituzioni che esistevano a priori. Quando si arriva alle materie sociali, che hanno una grande variabilità soggettiva, ti perdi in effetti l'oggettività, in quel senso. Perché sei letteralmente indottrinato nelle credenze che ti sono state presentate. Per prendere una laurea in economia, che probabilmente è la cosa più inutile che tu possa fare, dovrai prima essere completamente indottrinato nell'idea che quello che stai studiando è realmente una scienza che ha davvero una qualche tipo di rilevanza per qualcosa. Così, quando ricevo email dai dottori in economia che cerchino di ridimensionare ciò di cui parlo, diventa abbastanza chiaro per me che la ragione per cui hanno queste obiezioni è in realtà emotiva. Non è un aspetto oggettivo. Sono giunti ad avere un'identità di loro stessi per via del loro sistema di credenze a cui sono legati. E per come la vedo, portargli via questo, ridimensionare le loro idee sull'economia, significa privarli della loro identità. Grazie a tutti.